Sono Stefano De Bortoli, socio della Intodev SNC, società che da 30 anni è specializzata in finiture edili. Le nostre lavorazioni sono molto importanti per dare bellezza ed armoniosità agli edifici. Molto importante anche le coibentazioni termiche a cappotto che rendono comfort abitativo e performance termica alle nostre abitazioni. Sono presidente della categoria pittori e con il direttivo e l'associazione abbiamo realizzato il corso di formazione professionale per i nostri dipendenti. Altro obiettivo raggiunto è stato normare il posatore certificato di coibentazioni termiche a cappotto.